Quinta corsa dall'Arcoveggio, una prova per tre anni sul doppio chilometro, in 10 al via all'uno Daisy Pan, due Dorieu, tre Dobardaghi, quattro Diamante Dorial, cinque Delizia di Casei, sei diritto d'autore, in seconda fila sette Daikiri di C, otto Docena, nove Drum, dieci Drake Gar, corsa molto incerta, la favorita è Delizia di Casei, di poco preferita la scuderia composta da Drum e Dobardaghi, poi Drake Gar, macchina inizia a prendere velocità, un po' arretrato in seconda fila, Drake Gar, si parte con veloci Dorieu e soprattutto Diamante Dorial che cerca di scavalcare Dorieu, ci riesce, scende al comando Diamante Dorial nei confronti di Dobardaghi che prova ad andare a chiedere strada, in terza ruota c'è Delizia di Casei, insiste Dobardaghi su Diamante Dorial, dopo 200 metri parecchio lottati mette la figura davanti all'avversario e passa davanti alle tribune, Dobardaghi in vantaggio, i confronti di Drum che si presenta all'esterno, il compagno di Colori va a chiedere strada a Dobardaghi, insiste Drum su Dobardaghi e passa, è stato 29,7 per il primo quarto di gara, Drum al comando sull'alleato Dobardaghi, quindi Diamante Dorial, poi Dorieu, di fuori invece è rimasta Delizia di Casei che si porta in scia Drake Gar, si va a completare il primo giro di corsa con Drum al comando 59,6 per i primi 800 metri, Drum, Dobardaghi, Delizia di Casei di fuori, Diamante Dorial all'allosteccato, Dorieu quarto in corda, seconda pareglia a largo per Drake Gar che sembra volersi affacciare in terza ruota, il chilometro se ne va in 1,14,9 con Drum che guida il gruppo su Dobardaghi, Drake Gar che si lancia in mezzo alla pista, scavalca Delizia di Casei, si porta allo scoperto quando manca un giro alla conclusione, 15 anche davanti alle tribune, 1,30 e 1,200, Drum e Drake Gar che ingaggiano il duello, poi Dobardaghi all'osteccato richiesto Diamante Dorial, dai chiri di C che scavalca Delizia di Casei la quale retrocede dopo il percorso duro, 15,4 di piegata e Drake Gar sta attaccando con decisione Drum, si avvicina anche dai chiri di C ai primi, dai chiri che si mette in caccia di Drake Gar che intanto è passato a 400 dalla conclusione, 2 minuti e tredecimi il miglio, Cala Drum scavalcato da Dobardaghi e Dorieu, Drake Gar in vantaggio dai chiri di C che se la fa nella sua scia per provare a tornare di fuori in retta d'arrivo, Drake Gar e dai chiri di C a lottare la corsa all'ingresso della retta d'arrivo, Drake Gar in vantaggio sollecitato per andarsene dai chiri che sposta ora al suo esterno ma nel finale Drake Gar se ne va a vincere facile su dai chiri di C al terzo posto Dorieu mantiene qualcosa su Dobardaghi, 32 anche a chiudere 1,15 e 1 il doppio chilometro per Drake Gar e Pietro Gubellini che continua in un magic moment che ormai dura da tempo, ancora il bareggio team a segno, questa volta per Felice tiene Pietro Gubellini e Drake Gar li riapprezziamo nelle immagini vincitori in questa quinta corsa dall'arcoveggio, netti su dai chiri di C e Dorieu. Grazie a tutti! Grazie a tutti!